i fatti dell'ane triestina vicenza 0 a 0 e riprende così la marcia del nostro l'ane un punticino dopo due sconfitte un punticino che lascia un po di amaro in bocca soprattutto per non aver sfruttato la superiorità numerica per più di mezza partita il lane conferma tutto solidità difensiva ma anche lacune nell'organizzazione delle manovre d'attacco poca incisività poca pericolosità e qui le strade sono sempre due polemica e lamentele contro fiducia e apprezzamento nei progressi fatti rispetto allo scorso anno nel percorso di costruzione di una squadra che possa avere delle prospettive a voi la scelta per il momento sulle maniche perché domani c'è la surenzuola reduce nella sconfitta contro la virtus verona e poi domenica domenica non serve dire niente quindi un poco e sport e piene ma avanti sempre e forza l'ane